La Città delle Donne è un palinsesto ricchissimo in cui vi racconteremo le storie delle donne di origine straniera che abitano a Milano. Hanno costruito carriere, hanno dato la luce ai bambini, hanno permesso di conoscere il loro paese d'origine attraverso la letteratura, l'arte, la danza, la cucina. La Città delle Donne per me è un'opportunità per le donne delle comunità internazionali, come me, come le altre ragazze della cabina di regia, di avere un palcoscenico offerto dal Comune di Milano per poter raccontare le proprie esperienze, le proprie vite, le proprie comunità di origine e soprattutto mostrare anche alla società italiana le nostre competenze. La Città delle Donne è per me un luogo e un momento di incontro con persone che sono fisicamente simili a me, a noi, ma anche con storie ed esperienze simili alle nostre. Ma è anche un momento per i milanesi incontrare e interagire con persone che hanno storie anche sul mondo diverse dalla loro. In questi mesi vi accompagneremo in questo racconto corale della loro esperienza e grazie alle loro voci ascolteremo quello che sono i loro desideri per il loro presente e per il loro futuro. E anche la Città delle Donne non si ferma, noi rimandiamo, ma rimaniamo. RIMANIAMO RIMANIAMO